Prima gara di campionato, seconda garegoria, girone E, tra Virkus Castelfrentano e Draghi San Luca Tessa. La Virkus Castelfrentano è con la tenuta bianca, mentre con la tenuta rossa e i Draghi San Luca di Atessa. Ci sono anche i ragazzini della scuola calcio. Adesso c'è il sorteggio. C'è il sorteggio. E ragazzini, fate... Se vi volete schierare a volo, dopo per una foto, prima che dà il fisco di inizio, ecco, si salutano i cacciatori. Allora, ritornate dal sottopassaggio, vi andate a cambiare, c'è papà dei vincenti. Piano piano per le scale. Ok, se vi volete schierare faccio una foto a volo. Leo? Eh, eh, sì, sì, so, belli... Eh... No, 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 no...